Però mi piace tanto. Però mi piace tanto. Menga se mi piace. Pensate a tutta l'Italia. Uno mi ha detto. Pensate a tutta l'Italia. Uno mi ha detto. Oh Gomba, ma tu sei un fenomeno. Davanti a migliaia di persone. Oye Sergio, tu sei un fenomeno. Davanti a migliaia di persone. E ha detto ah. E gli ha detto scusa non ho capito, ma cosa vuol dire ah? Ma cosa vuol dire ah? Non lo sanno i siciliani. Non lo sanno i siciliani. E come i piemontesi che dicono ne. Ne, come i piemontesi che dicono ne. E i genovesi che dicono belì. E i genovesi che dicono belì. Oh che bravo. Fa tutto quello che gli dico. Oh che bravo. Fa tutto quello che gli dico. E viva Verona. Viva questi ragazzi. Un applauso. Prende il compito. E' stato così. Un applauso. Ottimo. Grazie. 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 Grazie.